battiato l'alieno il titolo del libro a fumetti scritto dal catanese alessio cantarella ingegnere informatico e disegnato dal cartoonista napoletano maurizio di bona edito da mimesis il caffè dei filosofi c'è una bella prefazione di susi bladi cantarella un omaggio quasi un atto d'amore verso un artista che ha avuto la fortuna di incontrare di frequentare sì il libro nasce da un documentario che realizzai due anni fa si chiamava 300 miliardi di ricordi lo trovate su youtube mi era stato commissionato dal comune di montalbano e l'icona in occasione di un festival che si era svolto in questo paesino nella provincia di messina nel quale avevo raccolto una settantina di contributi inediti artisti musicisti intellettuali filosofi italiani che ricordavano in una maniera personale privata l'uomo franco battiato perché dell'artista è stato già scritto e detto di tutto ma dell'uomo in realtà mancava un documentario un documento una testimonianza che restituisse quanto fosse divertente simpatico autoironico l'uomo battiato e quindi nacque questo documentario poi maurizio di bona che un fumettista straordinario lo trovò su youtube e mi contattò e mi disse guarda una cinquantina di vignette pronte su battiato erano disegnata a matita mi mandò qualche scansione qualche foto e se perché non mettiamo insieme le due cose i testi del tuo documentario e le mie vignette e ne mettiamo assieme un libro mimesis accolse con piacere la nostra proposta e siamo adesso qui a parlare di questo libro tra le testimonianze raccolte nel video documentario e poi riversate nel libro qual è quella che ti è ti ha colpito di più ti è piaciuta di più non dico più bella ma più immediata beh è difficile rispondere a questa domanda ma ci sono un paio di testimonianze che mi hanno colpito particolarmente ad esempio mi viene in mente quella di elvira seminara è stata straordinaria nel sintetizzare l'uomo battiato associandola associando la figura di battiato alla sua leggerezza al fatto che lui fosse una persona leggerissima già in questa terra e quando egli annelasse alla leggerezza post vita anche lucia sardo ha dato una testimonianza straordinaria di quanto gli manchi franco di quanto lui scherzasse di quanti scherzi le facesse anche susi bladi nella sua testimonianza ha raccontato l'uomo battiato come lei lo ha conosciuto il suo viaggio a katmandu ma la lista sarebbe infinita non vorrei annoiarvi e scrivi nel libro che il successo della collaborazione tra battiato e sgalamburo il filosofo mario calambro è anche una diciamo così sana questione di egoismo tante tante chanson egocentri vuoi spiegare perché sì perché questa è una teoria che è stata per prima elaborata da antonio carulli che è un filosofo di bari con cui ci accomodava la l'amicizia con sgalambro e lui era dell'idea io appoggiavo questa sua idea che sia battiato che sgalambro in realtà nella loro collaborazione non stavano mediando ma stavano cercando di portare il più possibile il prodotto canzone verso il loro mondo e quindi c'è sempre una divergenza di contenuti che porta verso lo spiritualismo battiatesco e verso il nichilismo sgalambriano e quindi c'è sempre questa tensione che poi genera a volte delle opere d'arte pazzesche che non si erano mai sentite in italia prima premesso che sesso e architettura di con la pesce di martino sembra una canzone scritta da da battiato a eredi o insomma simil tali il maestro che non amava essere chiamato maestro ma secondo me più che eredi battiato come hanno fatto altri grandi nella storia della musica ha creato una grammatica così come bob dylan ha creato la sua da poi dalla quale poi sono nati i vari de gregori battiato ha creato la sua grammatica musicale che secondo me ha influenzato tantissimo lo stile di non so max gazzè dei blu vertigo morgan fabio cinti ma anche gli stessi con la pesce di martino che tu citi sono in qualche maniera frutto di quella grammatica cioè loro prendono le regole di quella grammatica e le applicano al loro mondo musicale dimmi per finire qual è la tua personale battiato list i tre quattro brani e di battiato per quanto la scelta è abbastanza estesa esterminata i tre quattro brani di battiato che ti piacciono di più sicuramente shock in my town andò in radio ad agosto 98 avevo 13 anni e queste sonorità che non si erano mai sentite negli anni 90 perché era appena uscito pro tools per mac battiato era fanatico dell'innovazione tecnologica quindi qualunque nuova tecnologia venisse in messa sul mercato lui era sempre il primo a comprarla come fece già col vcs 3 negli anni settanta quindi utilizzò pro tools e dentro gommalacca ci sono praticamente tutti i plugin che erano presenti all'interno di quello strumento e shock in my town è l'esempio più lampante ma poi altri brani indimenticabili per me sono stage door che è un brano semi inedito perché venne pubblicato come b side di gommalacca con un testo delirante di sgalambro musicato da battiato in modalità demo e vi invito tutti ad ascoltarlo poi è difficile perché diciamo la produzione di battiato è sterminata direi un altro brano che mi viene in mente tra sesso e castità per esempio del 2004 ma potrei andare all'infinito a elencare brani bene bacchiato l'alieno il libro scritto a quattro mani anzi scritto a due mani e poi disegnate da altre due da alessio cantarella dal cartoonist maurizio di bona ci vediamo a catania il venerdì 19 gennaio per la presentazione alle ore 18 dove sandro vergato giuseppe brancatelli e francesco sapuffo alla feltrinelli di vietne a catania altre date per la presentazione il 24 gennaio a palermo sempre ore 18 con lucia sardo fabio bagnasco e marcello faletra il weekend successivo a messina la date ancora in fase di definizione il 16 febbraio a bruxelles assieme a roberto russo e lettore bottino e il 22 febbraio a firenze con siusi bladi guido guerrera e francesco pelosi sì ma ma Grazie a tutti